andiamo ad esplorare con le sole parole un giardino che abbiamo già visto insieme su youtube se non sai di cosa parlo ti posso dire che c'è una serie di video di tour virtuali fatti con google earth su youtube in cui vediamo insieme dei giardini e tentiamo di capire alcuni aspetti se non sai di cosa parlo ti lascio il link nella descrizione di questo episodio io sono francesco e questo è giardino rivelato il podcast dedicato all'arte dei giardini in cui non ci accontentiamo di capire come far crescere una pianta e non che ci sia nulla di male anzi una cosa meravigliosa ma ci piace parlare di come ci sentiamo mentre facciamo crescere una pianta o mentre vediamo una pianta che qualcun altro ha fatto crescere beh oggi andiamo a vedere delle piante o meglio andiamo a parlare ad ascoltare delle piante che sono cresciute per tanto tempo perché visitiamo parliamo del giardino di palazzo venezia a napoli che dovrebbe essere a meno che le persone che ne hanno parlato quando ci sono stato non mi hanno dato informazioni errate e a meno che non abbia letto documenti errati l'unico si tratta dell'unico giardino rimasto più o meno integro nel centro storico di napoli dei tanti palazzi con giardini corti interne è l'unico rimasto così certo c'è il chiostro di santa chiara ma quello è un altro discorso è un giardino che oggi vediamo in forma ridotta diciamo nel senso che nel tempo è stato spezzettato e ne rimane solo una parte quello di palazzo venezia napoli è un giardino di cui non avevo idea che esistesse quando ci sono entrato per la prima volta nel marzo del 2018 stavo camminando per via benedetto croce spacca napoli e sono attratto dall'ingresso in questo palazzo di questo questo arco vado avanti ci sono delle scalette salgo c'è una sorta di bar e mi spiegano che sono un'associazione culturale che si prende cura di questo giardino entro ed è un posto meraviglioso ci sono delle dei tavolini delle sedie c'è una sorta di riproduzione di un di una casa pompeiana infatti viene chiamata la casina pompeiana c'è un bellissimo ficus una pianta tropicale che quanto avrà 3 4 5 6 7 10 secoli probabilmente meno meno di 10 secoli ed è un giardino fatto in un terrapieno nonostante sia un giardino pensile perché all'interno di una terrazza e ne rimane solo una parte e quando stai lì tra alcune cose che sono tenute male altre che sono tenute un po meglio tra alcune cose un po kitsch altre più antiche si crea proprio un'atmosfera per cui ti viene voglia di prenderti un qualcosa e sederti lì a leggere oppure semplicemente osservare quello che è intorno e per dare idea dello spirito che c'è in questo giardino del genius loci di questo giardino bisogna entrare nell'ottica del 700 napoletano un'epoca in cui coesistevano benissimo l'illuminismo è una sorta di nebbia sognante e magica il 700 napoletano è quello per l'appunto delle grandi menti illuminate quello della rivoluzione però allo stesso tempo è anche un'epoca in cui tutte quelle idee legate alla necromancia all'esoterismo alla magia popolare allo spiritismo non erano sparite anzi erano condivise sia dal cosiddetto popolo basso che dagli intellettuali per cui nel momento in cui sei lì devi entrare in questa ottica per cui non sei solo sei ospite di un giardino in cui vieni accolto ma c'è un qualcuno che ti guarda e probabilmente sono le piante probabilmente sono i muri probabilmente sono i vicini di casa ma un qualcuno ti guarda e sicuramente ha qualcosa da dirti voglio suggerirti una lettura per entrare in quest'ottica in quest'ottica che mette insieme la narrazione di eventi reali e irreali una narrazione tale che tu non sei in grado di capire cosa è avvenuto e cosa non è avvenuto una narrazione in cui il supposto il percepito il visibile l'invisibile rientrano perfettamente nella stessa sfera nelle stesse parole c'è una narrazione perfetta per spiegare il settecento napoletano e quindi il giardino di palazzo venezia il cardillo addolorato è un romanzo edito da delfi scritto da anna maria ortese una scrittrice meravigliosa in cui non capisci se è stato scritto nel novecento nel settecento se è stato raccontato a voce al telefono da questa persona da questa artista a una persona amica sua oppure se è stato volutamente scritto se l'è stato raccontato seppure se l'ha inventato è un romanzo in cui tutto quello che avviene ti viene spiegato eppure continui a non capire bene ma soprattutto è un romanzo estremamente elegante e l'eleganza è una cosa importantissima da comprendere per capire sia la bellezza di un giardino settecentesco che il suo degrado che quello che non c'è più siamo alla fine di questo episodio e io vorrei sapere se tu conoscevi questo giardino e se conoscevi questo romanzo fammi sapere che ne pensi e non solo se hai giardini da esplorare che ti piacerebbe andare ad ascoltare insieme fammelo sapere ti invito sempre ad iscriverti a questo canale e a spammarlo in giro a tutte le persone a cui vuoi bene perché chiaramente un grande regalo che puoi fare possiamo rimanere in contatto su giardino rivelato punto it e lì ci sono tutti i posti in cui ci possiamo trovare in rete a questo punto io ti saluto e ti ringrazio tantissimo di aver fatto questo viaggio con me e di aver chiacchierato con la scusa dei giardini